Sfiducia, vitalizi e indennità. La politica che non piace. Cittadini sempre più indignati contro la casta vista come una lobby. A Moby Dick confronto a tutto campo. Durante la trasmissione dati alla mano, fatta chiarezza sugli stipendi dei consiglieri regionali. Giustizia, ministro Orlando Martiri a Isernia visiterà il tribunale invitato dal presidente Enzo Di Giacomo. Il comitato per la difesa della Corte d'Appello chiederà un intervento dell'esponente del governo per tutelare le strutture giudiziarie molisane. Movimento 5 Stelle, amministrazione battista attaccata a poltrone. Gli attivisti denunciano l'immobilismo istituzionale e la paralisi in città e illustrano le novità nell'esposto alla Corte dei Conti per presunto danno erariale a carico del comune. La tradizione di Agnone con il piccolo Natale si celebra nel giorno della ricorrenza di Santa Maria delle Grazie e coinvolge l'intera comunità con la messa prima dell'alba, un evento molto sentito dagli agnonesi. Serie D, turno importante per le morisane. Il campo basso a Fano per dare una svolta alla stagione. L'Isernia con la Fermana per confermarsi tra le migliori. L'Agnone va a Pesaro per risalire la classifica. 14,2 minuti, buongiorno dal telegiornale di Telemolise. Mozione di sfiducia a frattura, vitalizi, indennità. I temi caldi affrontati nella puntata di Moby Dick. Con l'intervento sulla pagina Facebook di Telemolise, dei cittadini sempre più indignati contro la casta. Dati alla mano è stata anche fatta chiarezza su quanto percepiscono i consiglieri regionali al mese. Sentiamo Tonino Danese. Cittadini sempre più lontani dalla politica, da una classe politica che non piace e che viene percepita come lobby che tutela solo i propri interessi. È quanto è emerso dal confronto a Moby Dick che ha coinvolto non solo gli ospiti in studio ma anche la gente intervistata o che è intervenuta attraverso la pagina Facebook di Telemolise rilasciando commenti duri contro la casta. L'argomento caldo è stato quello della mozione di sfiducia a frattura presentata dalle minoranze in consiglio regionale con il centrodestra che ha affiancato il Movimento 5 Stelle. Il segnale che noi vogliamo dare a questi cittadini è che noi come Movimento 5 Stelle come cittadini ci sentiamo pronti a dare un cambio drastico e per poterlo fare c'è bisogno di tornare al voto. Provente anche il tema dei vitalizi recentemente reintrodotti dalla regione sotto forma di previdenza contributiva che costerà alla collettività circa 2 milioni di euro, cioè tre quarti del totale versato viene coperto dai cittadini. La cifra già esorbitante si somma ai 4 milioni annuali di deficit necessari per pagare i vitalizi pregressi. Una cosa è la continuità contributiva, ben altra cosa, e questo magari non lo chiamiamo vitalizio, lo chiamiamo in un'altra forma, che darebbe diritto da nuova pensione raggiunti 65 anni con soli 5 anni di contributi. Uno deve fare politica come servizio, dopodiché si vuol pagare privatamente i contributi, fa una polizza privata. Gigi non mi ha anticipato sulla questione delle assicurazioni, ognuno se le può come dire aprire in qualsiasi momento e quindi si va in qualche modo a garantire un futuro se lo meritano, aggiungerei, però insomma se uno se la paga poi non fa niente, pur se non se lo grazie. Queste cose vanno modificate e cambiate, la risposta alla sua domanda è sì, esternamente abbiamo un'immagine pessima, diamo un'immagine pessima, ma io non andrei a mettere nel dimenticatoio anche il ragionamento per quanto riguarda stipendi, cose eccetera, prebende varie, anche dei gruppi regionali. La puntata di Moby Dick ha chiarito, carte alla mano, l'ammontare degli stipendi, neanche interamente tassati, percepiti dai singoli consiglieri regionali. 13.500 euro mensili per i presidenti di giunta e consiglio, 12.000 per gli assessori e i vice presidenti, 11.250 euro per i presidenti di commissione e capi gruppo, fino ad arrivare ai 10.500 euro per i consiglieri senza incarico. Durante la trasmissione è venuto anche fuori che l'indennità di rimborso spese per l'esercizio del mandato, pari a 4.500 euro netti mensili, è tra le più alte d'Italia, considerato che nella regione Lombardia il rimborso è di 4.218 euro, in Puglia 4.100, in Piemonte 4.050 euro, nelle Marche 2.700 euro. Nel Molise, oltre all'indennità forfettizzata, vengono rimborsate, a parte le spese per missione istituzionale fuori regione. Peraltro, il 1 ottobre 2013, su proposta di Paolo Frattura, il Consiglio regionale approvò un ordine del giorno che conteneva dati più bassi degli stipendi introdotti dalla legge numero 10 del 25 luglio dello stesso anno, poiché al primo stipendio di agosto, diffuso con l'ordine del giorno per tentare di placare i cittadini indignati, venne applicata l'aliquota massima del 43% su tutto l'importo soggetto a tassazione, determinante in tal modo uno stipendio netto più basso in media di 1.000 euro. Un atto, questo, giudicato indegno dai cittadini che sono intervenuti nella puntata attraverso la pagina Facebook di Telemolise, poiché hanno evidenziato consumato nel più alto consesso istituzionale della regione. C'è da evidenziare però che solo i due consiglieri del Movimento 5 Stelle, Manzo e Federico, hanno rinunciato a buona parte del loro stipendio e percepiscono solo 2.600 euro al mese. Vi ricordo alle 16 la replica di Moby Dick. Intanto, a proposito di indennità, abbiamo intervistato il sindaco di Bonifro che ha rinunciato al suo compenso 1.300 euro al mese per interventi di manutenzione nel paese. Anche altri sindaci stanno seguendo il suo esempio. Ce ne parla Fabrizio Occhionero. Siamo con il sindaco di Bonifro, Nicola Giovanni Montagano, 31 anni, avvocato, dallo scorso giugno alla guida di un paese di circa 1.500 abitanti. Tra le iniziative di questi primi mesi spicca la rinuncia alla sua indennità di carica. È stato un gesto spontaneo, devo dire, che si è indirizzato nel confermare quelle che erano state le nostre promesse in fase di campagna elettorale. È stato un modo, un meccanismo, una scelta fatta, a mio giudizio, a giudizio di questa amministrazione comunale, a beneficio della nostra comunità. Sicuramente la rinuncia è qualcosa che comporta un peso ulteriore, quello di doversi far carico ugualmente di tutti quelli che sono gli impegni, le responsabilità che derivano dall'incarico istituzionale. Il progetto si chiama Sassi sulla strada e consente di accumulare ogni anno circa 18.000 euro. Non si tratta di una mera rinuncia e fare in modo che queste somme poi vadano a confluire nel calderone generale di quello che è il bilancio, ma hanno uno scopo ben preciso, quello di garantire i servizi, quantomeno quelli essenziali per la nostra comunità. E parlo di manutenzione, parlo di opere pubbliche, parlo di rifacimento delle strade, quindi delle Sassi sulla strada perché siamo partiti proprio rimettendo a posto le pietre, il porfido lungo le strade comunali e lungo i marciapiedi. Sindaco, ma lei si sente un po' controcorrente in una regione in cui indennità, vitalizi e sprechi non mancano? Io non sono qui per giudicare o addirittura condannare nessuno. Sono fermamente convinto che la politica debba essere un servizio, quello di mettersi a disposizione delle persone e di fare delle scelte a beneficio di tutti, contemperando degli interessi. E in questo caso io ho avuto modo di fare il bilanciamento di quelli che sono gli interessi coinvolti all'interno della nostra comunità e mi sono accorto che per far fronte ai servizi fondamentali, alla manutenzione, a opere che sono a beneficio di tutti, l'unica strada era quella di percorrere con questo obiettivo e di percorrere quindi con la rinuncia al recepimento delle risorse. Martedì prossimo alle 15 il Ministro della Giustizia Orlando sarà in visita al Tribunale di Isernia, invitato dal Presidente Enzo Di Giacomo. Incontrerà magistrati, avvocati e personale amministrativo. Subito dopo è prevista una conferenza stampa. Il Comitato per la difesa della Corte d'Appello del Molise, nell'occasione, ha già preannunciato la richiesta di un intervento al Ministro per tutelare l'integrità delle strutture giudiziarie della Regione. Con la politica, annunzia De Girolamo, appena tornata in Forza Italia dal nuovo centrodestra, è stata nominata commissario di Forza Italia in Molise. Ma se a destra le sorprese sono all'ordine del giorno, non sta meglio il Partito Democratico, dove la spaccatura tra ex Bersaniani e Renziani si mostra sempre più evidente. Il servizio di Enzo Di Gaetano. Nunzia De Girolamo Beneventana, ex deputato di Forza Italia, transitata poi come Ministro nell'NCD di Angelino Alfano. E infine tornata tra le braccia di Berlusconi da semplice parlamentare, è stata nominata nuovo commissario regionale di Forza Italia al posto di Gianfranco Rotondi. Pochi o nulli commenti degli esponenti molisani di Forza Italia. Michele Orio, interpellato sull'argomento, ha preferito glissare. Ma ciò che destra perplessità è l'assoluta mancanza di dibattito interno, di dialettica. In un partito come Forza Italia, che in Molise, fino al 2013 era una specie di contenitore universale, dove chi più, chi meno, tra amministratori e rappresentanti vari, aveva trovato un suo posticino all'ombra di Michele Orio. Finita la presidenza del politico eserdino e con il continuo declino di Berlusconi, le cose sono cambiate e oggi Forza Italia ha perso posizioni su posizioni. L'arrivo della De Girolamo sarà anche come l'ennesimo atto di sfiducia nella classe dirigente locale del partito berlusconiano, soprattutto perché, più che un salto di qualità, per Forza Italia molisana sembra essere un contentino, dato il regalo all'ex ministra dell'NCD in cambio del suo ritorno nella casa paterna. Come è noto la deputata beneventana tradì Berlusconi, transitando da ministra dell'agricoltura nel governo Letta, poi coinvolta a suo malgrado ma non indagata nell'inchiesta della magistratura sullo scandalo degli appalti alla Asle di Benevento, si dimise restando nell'NCD fino a settembre scorso, quando lasciò Angelino Alfano e tornò di nuovo con Silvio Berlusconi. Nel suo commento la De Girolamo ringrazia Berlusconi e si dice pronta a riportare la pace ed appianare i contrasti in Forza Italia molise. Contrasti che, a dire il vero, sempre intuire solo lei, perché più che un partito contrastato, Forza Italia molise sembra essere un partito azzerato o meglio silenziato. Una situazione opposta a quella del PD, dove oramai la spaccatura tra ex bersaniani e neorenziani appare giorno dopo giorno sempre più evidente. Un caso su tutti, la difesa della prefettura di Isernia. Una parte del PD, quella di Ruta e Leva, ha parlato con il sottosegretario all'interno Bocci ricevendo rassicurazioni. L'altra sponda, quella di Frattura e Fanelli con la giunta di Veneziale, per non essere da meno, ha organizzato per lunedì un incontro a Isernia con il sottosegretario alla pubblica amministrazione Rughetti. Ma oltre la prefettura di Isernia, l'oggetto del contendere all'interno del PD sembra essere la nuova legge elettorale regionale. Frattura e la Fanelli la vogliono blindare, togliendo il voto disgiunto, per far sì che le preferenze espresse per i candidati vadano direttamente al presidente. Gli ex bersaniani in testa a Francesco Totaro, fiutato l'inganno, si sono messi di traverso, affermando che il voto disgiunto e con esso la libertà di poter scegliere il presidente, non si toccano. Ci sono novità per quanto riguarda l'esposto che i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno presentato alla Corte dei Conti per presunto danno erariale a carico del Comune di Campobasso. Le hanno illustrate nel corso della conferenza stampa organizzata anche per denunciare la situazione di paralisi in cui si trova la città. Con una maggioranza hanno denunciato malata di protagonismo, i particolari nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Vi è piaciuto vincere facile? Ora però ne state pagando le conseguenze. La battuta arriva dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle ed è rivolta direttamente al sindaco di Campobasso Battista e alla sua maggioranza che a dire il vero non attraversano una fase tranquilla perché le contraddizioni che caratterizzano una coalizione così composita stanno venendo tutte a galla. I 5 Stelle le hanno elencate nella conferenza stampa convocata al Comune ma prima di affrontare l'aspetto puramente politico gli attivisti hanno ricordato l'esposto presentato alla Corte dei Conti per presunto danno erariale. L'esposto fu presentato già il primo di aprile di quest'anno. L'evento di novità è una lettera del segretario generale che ci è pervenuta a seguito di accesso agli atti che di fatto un po' suffraga quello che noi ipotizzavamo ad aprile e per questo abbiamo fatto un'integrazione all'esposto di aprile presentato il 19 di novembre. Secondo noi c'è una sovrapposizione tra il segretario generale e il dottor Iacobucci che di fatto svolge il ruolo di direttore generale in una città sotto 100.000 abitanti, questo non è previsto perché lo dice un decreto legge. Potrebbe cadere che magari la Corte dei Conti verifichi questo e si realizzi eventualmente una responsabilità per danno erariale perché sono spesi 180.000 euro per una figura che non dovrebbe esistere. E poi c'è l'aspetto politico con il caso Iafigliola che sta provocando un vero e proprio terremoto politico. Una maggioranza malata di poltronismo hanno denunciato i 5 Stelle una situazione, hanno detto, ormai pronta ad esplodere. Un vaso colmo, questo lo stiamo dicendo da troppi mesi ormai, questa coalizione è così ampia, troppo ampia, sta facendo emergere tutte le criticità che ci aspettavamo. Le dimissioni del Presidente del Consiglio Iafigliola in realtà nascondono tutti quei mal di pancia che in questa maggioranza stanno di fatto immobilizzando l'intera amministrazione di Campobasso che è ostaggio delle rivendicazioni non di natura politica ma di natura esclusivamente poltronista direi da parte di alcune componenti che alzano la voce pretendendo fino anche all'allargamento della Giunta, cosa che noi riteniamo assolutamente improponibile perché l'allargamento della Giunta innanzitutto non rientrava assolutamente tra i programmi elettorali di questa amministrazione. in più porterà inevitabilmente un aumento di costi a carico della collettività che sicuramente questa amministrazione non può e non deve sostenere. Basta guardarsi intorno, il fatto che questa città sia completamente ferma ancora al maggio 2014 ovvero quando questa amministrazione si è insediata con grandi proclami, grandissime promesse, un bellissimo programma elettorale ma in realtà ad oggi non è stato fatto assolutamente nulla di tutto ciò che doveva essere fatto. Effettuato ad opera di una detta specializzata l'intervento di deratizzazione presso i locali che ospitano il giudice di pace di Isernia. A partire dal lunedì dunque le udienze in programma riprenderanno. Simona Dallachiesa, figlia del generale Carlo Alberto, ucciso dalla mafia nel 1982, ha incontrato i ragazzi della scuola Montini di Campobasso per parlare di legalità. Ho portato soprattutto un messaggio di speranza, ha detto, ad organizzare l'incontro la scuola di legalità Don Peppe Diana e l'assessorato alla cultura di Palazzo San Giorgio. Ce ne parla Marta Martino. L'istituto scolastico per ospitare il nuovo incontro della scuola di legalità Don Peppe Diana, diretta da Vincenzo Musacchio, non è stata scelta a caso. La Montini di Campobasso ha già vinto un premio in passato per un lavoro sulla legalità. L'ospite neppure e il cognome già ne spiega la presenza. Simona Dallachiesa, figlia del generale Carlo Alberto, ucciso a Palermo dalla mafia il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela e all'agente di scorta Domenico Russo. L'auditorium gremito di studenti per questa lezione speciale di vita e di storia per lo più. Qual è il messaggio che è venuto a portare oggi ai ragazzi della scuola? Se devo essere sincera, prima ancora che di legalità è un messaggio di speranza. Un messaggio per questi bambini e ragazzi che in fondo questo mondo così cattivo, questo mondo così scuro che appare dal telegiornale, dalle esperienze che anche con le loro famiglie attraverseranno, è un mondo che si può cambiare, è un mondo in cui c'è ancora spazio per la parola legalità, solidarietà, amore verso il prossimo, cura della più debole. Passano le generazioni e la speranza di poter vivere in una società diversa sembra avere battute d'arresto, ha detto la figlia del generale, ma se si guarda indietro ci si rende conto che sono cambiate molte cose, che molte persone hanno dato il loro contributo e forse un domani lo daranno anche i ragazzi della Montini ed altri studenti come loro, si impareranno che si deve rispetto alle regole, agli altri e a se stessi, che non si deve abbassare la testa davanti al prepotente di turno, ma opporsi, così come ha insegnato il generale dalla Chiesa che pur minacciato dalla mafia ha continuato imperterrito sulla sua strada di onestà e senso del dovere verso lo Stato. Come si convive con l'idea di un papà ucciso dalla mafia? Non si convive, lo si rifiuta ogni attimo della propria vita perché è un continuo ricordare, un continuo pensare se ci fosse stato papà, se io avessi avuto mio padre vicino, quindi non si può convivere con qualcosa di così brutale ed efferato perché non ha giustificazioni, non ha spiegazioni se non le peggiori che si possano immaginare. Si può introiettare fortemente il dolore, cercare di rielaborarlo per ritrasmetterlo in maniera positiva perché il suo sacrificio non sia stato inutile. Cercare di lottare perché il suo nome sia ancora ricordato, perché il suo esempio sia un esempio per tutti e perché in qualche modo non sia morto. Dopo gli attentati di Parigi, anche nel territorio della provincia di Campobasso, intensificati i controlli e i sistemi di prevenzione. La Polizia del Capoluogo, in collaborazione con delle altre forze dell'ordine, ha effettuato ieri un'esercitazione per testare l'efficacia dei dispositivi di emergenza in caso di attacco terroristico. Sono stati dislocati agenti in punti strategici e considerati sensibili a Campobasso e Termoli. Analoga attività è stata svolta con il coordinamento della questura anche dai carabinieri, finanza e corpo forestale con numerosi posti di blocco. Il piano, in particolare, ha verificato con una simulazione l'efficacia della modalità di intervento e la rapidità di risposta in caso di eventuale emergenza. E' stato arrestato, ancora cronaca, di Sernia, un uomo di 30 anni originario della Romania, ricercato per una serie di furti e rapine commessi nel nord Italia. E' stato rintracciato e fermato nel centro storico dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, ora rinchiuso nel carcere di Ponte San Leonardo. E adesso andiamo ad Agnone per una tradizione davvero particolare, il piccolo Natale. Si celebra nel giorno della ricorrenza di Santa Maria delle Grazie e coinvolge tutta la comunità, nonostante la messa cominci ancora prima che faccia giorno. Ma sentiamo cosa si tratta nel servizio di Sergio Di Vincenzo. La tradizione di celebrare questa messa dal sapore natalizio risale ad almeno un paio di secoli fa. Furono i ramai di Agnone, prima di partire per vendere i loro prodotti fuori regione, a chiedere e ottenere di rendere omaggio alla Madonna delle Grazie ascoltando la pastorale. Un modo per sentire meno la lontananza dei propri cari e di mettere nel bagaglio anche un briciolo di quell'atmosfera che solo le feste natalizie sanno trasmettere. Già per tutte le case di Agnone è festa, è Natale. È una tradizione antichissima, infatti già dal 1884 il giornale Aquilonia Sannita già la citava che in Agnone vi era questa tradizione. Quindi sono più secoli che si svolge la mattina del 21, però anticamente nella chiesa di San Pietro Apostolo, che è anche una delle chiese più antiche di Agnone datata dal IX o X secolo e poi pian pianino la gente sempre di più si è deciso di farla nella chiesa madre di Agnone San Marco Evangelista. La messa, come sempre, è stata celebrata all'alba nella chiesa di San Marco, strapiena di gente. Anche quest'anno il vescovo della diocesi di Trivento, Monsignor Domenico Scotti, ha voluto esserci. La tradizione è sempre molto bella e bisogna essere grati a coloro che hanno dato inizio ad essa, perché avevano nel cuore un grande amore verso il Signore. prima di intraprendere un cammino per realizzare qualcosa di buono per la propria famiglia, si affidavano al Signore e si affidavano a Maria Santissima. Ma non è Piccolo Natale senza la pastorale, una musica che ti entra nella pelle e che non ti lascia più. Anche chi vive fuori regione fa di tutto per esserci. È una musica molto semplice, va detto questo. Non dobbiamo esagerare nel considerarla sul piano strettamente artistico come un'opera raffinata, però si è talmente incisa nel nostro immaginario collettivo, nella nostra memoria locale, che desta sempre un'emozione. Al termine della messa un'altra tradizione, la colazione con i raffaioli, particolari biscotti da intingere nella cioccolata e un'usanza legata ai matrimoni di una volta. La cioccolata è fatta con cioccolato, caffè alla monacina, un po' di cacao e latte. Alcuni invece la fanno senza il latte, soltanto col caffè. I raffaioli invece sono un dolce di uova, zucchero, ammoniaca e farina. Vengono messi nel forno e hanno questa forma così larga. Da Agnone a Campobasso dove si è celebrata la festa dell'albero. L'iniziativa è stata organizzata dall'Istituto Comprensivo Nicola Scarano con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e l'Associazione Ambientalista Affare Verde. Vediamo com'è andata nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Le mie radici scendono giù, sotto la terra sempre di più, vi prendo l'acqua un minuto da qui. Tanti colori, allegria, suoni, canti. È la festa dell'albero celebrata anche quest'anno dall'Istituto Comprensivo Nicola Scarano di Campobasso, una manifestazione che è coincisa con la giornata mondiale di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E infatti i bambini sono stati i protagonisti assoluti della festa. Coinvolti gli alunni della scuola dell'infanzia e quelli della primaria, tutti raccolti in piccoli gruppi o sistemati in fila sul piazzale antistante della scuola, i bambini si sono esibiti in balli con vere e proprie coreografie, curate nei dettagli dalle insegnanti. Ad assistere assiepati dietro i cancelli, i genitori emozionati ed armati di videocamere e macchine fotografiche per immortalare quei momenti che sicuramente rimarranno scolpiti nella mente dei piccoli protagonisti. La manifestazione è stata organizzata con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e l'associazione ambientalista Fareverde di Campobasso. Un momento di gioia e di condivisione che ha coinvolto tutti, dai più grandi ai più piccoli, su un tema, quello dell'ambiente, che interessa tutti noi molto da vicino. Prima della conclusione della festa, i volontari di Fareverde, accompagnati da alcuni bambini, hanno messo a dimora due querce rosse, splendidi alberi ornamentali, che andranno ad arricchire il già ricco patrimonio arboreo del giardino antistante, la scuola dell'infanzia e l'area verde attigo alla primaria. Poi, sfilata finale, con i saluti dei piccoli che in fila appunto sono rientrati nelle rispettive aule. Il Comune di Campobasso ha celebrato la festa degli alberi con gli alunni della Pertini e della Dovidio. In Villa dei Cannoni il sindaco, alcuni rappresentanti dell'amministrazione, studenti e docenti, hanno piantato due alberi. I ragazzi sono stati anche coinvolti in attività didattica e finalizzati a valorizzare l'importante funzione ecologica e sociale degli alberi nella vita della città. E per celebrare questa giornata, gli studenti della Iovine di Campobasso sono andati a festeggiare un albero molto particolare, la gigantesca sequoia di 120 anni, nel giardino della Fondazione Potito. Sentiamo. In una città a Campobasso, dove il verde pubblico è affidato alle cure di associazioni di buona volontà e dove gli alberi sono considerati ornamenti in balia di se stessi e della natura che spesso li decima, una sequoia in buona salute che arriva alla bella età di 120 anni è ormai una rarità. Mentre quella di piazza Cesare Battisti è ormai un tronco mozzo con due rametti rinsecchiti e quella del Mario Pagano ogni tanto fa temere che voglia seguire la stessa sorte, la sequoia del giardino del centro Potito svetta fiera e altera, coccolatissima dalla famiglia che lì l'ha piantata un po' di anni fa e ha voluto aprire le porte ai bambini della Iovine in occasione della festa dell'albero. Noi abbiamo voluto festeggiare i 120 anni di questa sequoia che è nella nostra struttura e che appunto rappresenta un parte integrante degli ambienti del nostro centro perfettamente integrata nella hall centrale, nella reception e nella sala d'attesa principale. La buona salute dell'albero dipende senza dubbio dalle cure che riceve quotidianamente. Ne è sicura la signora Vefa che parla della signora sequoia con tenerezza. La storia dell'albero fa parte della nostra storia perché noi da che l'abbiamo incontrata? Diciamo, l'abbiamo amata, l'abbiamo rispettata, le mettiamo i fiori che lei desidera, altri fiori che non desiderano glieli mettiamo e insomma è un orgoglio, un orgoglio ce lo curiamo particolarmente perché è come un emblema della struttura. Di Fanni qui è stato costruito anche sotto, però abbiamo mantenuto tutto rispettato lo spazio che la prima cosa è il suo benessere. Ne parla come se fosse una persona di famiglia. Ma di fatti, quando qualcosa non deve essere fatta io dico la signora non la vuole. Abbiamo visto i bambini delle quinte della Iovine che hanno abbracciato l'albero, che significato ha? Sì, beh questo è un significato, è la fitoterapia, è una nuova materia che ci indica e ci dà delle nuove prospettive positive, cioè l'albero è in un contesto in cui deve essere rispettato e ci rispetta. Attraverso questo abbraccio simbolico significa trasmetterci le sue emozioni del passato, ma anche quelle del futuro. Ed ora alcuni appuntamenti. Oggi e domani Telefono Azzurro scende in piazza al centro commerciale il centro del Molise, a Campobasso, con l'iniziativa di raccolta fondi e di sensibilizzazione dal titolo Le casette di luce. Con una donazione di 9 euro è possibile acquistare la casetta del Telefono Azzurro, simbolo di vicinanza ad ogni bambino che subisce violenze e soprusi. In questo modo, è stato detto, si sostiene e si potenzia le attività dell'associazione. Tutto pronto intanto a Civitanova del Sannio, nell'elegante showroom di D'Amico Arreda, per l'iniziativa giunta ormai alla sesta edizione di White Wedding Duke Suri, dedicata al mondo della sposa, che ci sarà domani a partire dalle 11 con il crew. Nel pomeriggio, fashion show di Miss Kelly e spazio alla comicità con il nonno moderno, direttamente da Made in Sud. L'ingresso è gratuito. E pomeriggio di festa, quello previsto domani al centro commerciale in piazza di Isernia. Per festeggiare gli 11 anni della struttura, sono state organizzate una serie di iniziative dedicate gratuitamente ai visitatori. Ospiti d'eccezione saranno bimbo show da Tussi Kevales e Gabri Gabra di Colorado Caffè. Bene, con questa notizia noi terminiamo l'edizione del 14 del Tg, adesso le previsioni del tempo, poi il notiziario sportivo. Nuovo appuntamento con informazioni intorno alle 15. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie per l'attenzione.